salve amiche ed amici qui il vostro SanTenChan in questo momento mi sto registrando con un piccolo cellulare che è di mia zia che è venuta a fare a casa nostra le vacanze di Natale si assomiglia molto al mio galaxy young 53 60 è uguale solo che c'ha il bottone home più largo e stretto e mi sembra che una nuova versione con rispetto al galaxy young 53 60 perlomeno io prima non l'ho vista però c'è la stessa camera c'è il sistema android 4.0 molta più memoria 2 gigabit interni però ecco appunto la delusione di questo modello nuovo è che ha la stessa camera di 2 megapixel anzi è molto meno brillante la visione che ha con la camera fotografica e la filmatrice beh bando alle ciance ho caricato adesso col mio account perché mia zia non ha né email né account di google plus né nulla di questo genere perché volevo provarlo con rispetto al mio galaxy young come veniva un programma perché nel mio galaxy young non posso scaricare sprecher studio allora ho voluto caricarlo in questo cellulare è molto divertente perché con sprecher studio come dicevo in pratica si può usare sprecher come nel computer con gli effetti speciali che adesso non ho gli auricolari quindi non ho sentito cosa sia successo però questo cellulare almeno c'è un microfono molto più sensibile non devo parlare appiccicato al cellulare allora innanzitutto mi devo scusare con tutte e tutti voi perché erano messi che volevo fare un programma in sprecher e a parte questo fatto degli effetti speciali non c'è nulla di nuovo nella maniera in cui si usa sprecher al cellulare a parte il fatto che il cellulare più piccolo della mia zia è più nuovo della samsung che non so che cellulare sia perché non portano scritto il nome però dicevo c'è il privilegio questo cellulare di avere un buon microfono intanto sono incazzatissimo perché il mio tablet euro case che non è europeo è americano nord americano mi è durato otto mesi poi si è iniziato a portarlo al centro di riparazioni della riconosciuto dalla fabbrica mi hanno cambiato la placca quattro volte lo hanno riparato otto e adesso l'ultima volta risulta che la placca che gli hanno messo dicendo che era nuova c'aveva degli archivi mp3 e non prende bene l'usb e poi al microfono rotto che parli e si ascolta molto basso quindi vi consiglio a tutti voi vivamente di di non comprare euro case e di comprare samsung o lg comunque il motivo di questo mio programma è che vi voglio augurare a tutte e tutti voi delle felici feste natalizie spero che questa vigilia e domani natale siano molto buoni che vi portino pace serenità fratellanza amore tanti bei regali che io quest'anno non ne avrò perché come molti di voi abbiamo dei problemi finanziari ed economici in casa però non mi storo alla mia una cosa che vi chiedo forse non per avere un regalo di natale ma almeno per tirare avanti visto che io sono youtuber e di andare nel mio canale di youtube e guardarvi tutti i miei video in questo modo mi potrete aiutare economicamente perché forse youtube mi arriva a pagare 100 dollari ogni tanto quindi vi pirego se volrete aiutarmi voi che mi ascoltate guardate tutti i miei video in youtube perché io mi possa avvicinare aumentando le visioni del mio canale santenchan di youtube alla soglia nella quale youtube mi arriverà a pagare almeno un centone di dollari ogni tanto una volta all'anno che ne so perché ne avrei fottutamente bisogno quindi vi ringrazio già da adesso per aiutarmi se volete aiutarmi in questo natale guardate tutti i miei video nel mio canale di youtube il link lo troverete nella descrizione del canale di ho fatto delle recensioni sui regali di natale e sulle vacanze di natale e a me il regalo che più mi piacerebbe sarebbe o un note 5 che sta per uscire della samsung un galaxy note 5 che avrà per uscire a settembre o un samsung galaxy s 6 oppure un apple iphone 7 comunque un cellulare rinomato di alta gamma con tutte le cose cattive che stanno succedendo nel mondo io mi auguro che il nostro paese abbia un po di pace e di respiro questo natale e che l'anno nuovo sia migliore di questo 2014 che l'anno nuovo 2015 sia migliore se no che viene a fare ci teniamo l'anno vecchio poi vi ringrazio a tutte e tutti voi per iscrivervi al mio canale e per continuare a seguirmi anche se a volte io faccio dei silenzi radio troppo prolungati non so come mi mi potrete perdonare come farmi perdonare però faccio questo programma radio adesso che c'ho tempo poi dovrò disinstallare tutti i programmi che ho messo nel cellulare perché mia zia non li utilizzerà se non gli rubano memoria e batteria un saluto a laura pezzino e a tutti quelli che mi seguono da sempre anche su altri social forum grazie di seguirmi buon natale a tutti il prossimo messaggio lo registrerò col mio cellulare o col computer adesso ho cose da fare e quindi faccio un messaggio breve tanto non ho nulla da dire quindi non vi vorrei rubare del tempo e poi non è in diretta quindi grazie a tutte e tutti per seguirmi buon natale buona vigilia grazie per apprezzare le mie trasmissioni così come le faccio a ruota libera senza copione perché per comunicarvi le mie impressioni a tutte e tutti voi così come faccio in youtube grazie amici ciao